Buonasera, mezzanotte e 35 minuti per l'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo dall'incontro a Parigi della nostra premier Giorgia Meloni con il presidente francese Emmanuel Macron. Un incontro durato quasi due ore all'Eliseo. Si parla di un nuovo inizio, dice la Menoli, ma ricordate che gli interessi delle nazioni vengono prima di tutto. È emersa poi una certa sintonia sulla questione migranti. La sintonia ritrovata tra Meloni e Macron dopo mesi di freddezza è sancita dalla comune sensibilità su molte materie strategiche, ma anche dalla necessità. Gli interessi delle nazioni vengono prima di tutto, ha dichiarato la presidente del Consiglio al termine del bilaterale all'Eliseo. E dunque il sostegno granitico all'Ucraina, la convergenza sul contrasto all'immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani, lo schiavismo del terzo millennio, concordano entrambi, la difesa delle frontiere, le nuove regole del patto di stabilità. Non possiamo consentire, avverte Meloni, che tornino parametri oggi inadeguati. Le sfide che nei prossimi mesi attendono Roma e Parigi rendono obbligata la collaborazione tra i due paesi, che nei fatti, conferma Macron, è già stretta e proficua in molti settori. Talvolta ci possono essere delle controversie e dei disaccordi, spiega il presidente francese, liquidando così le polemiche degli ultimi mesi, ma in un quadro sempre rispettoso. Del resto, sottolinea Meloni a confermare, Italia e Francia sono due nazioni legate, centrali e protagoniste nell'Unione Europea, che hanno bisogno di dialogare perché molti e convergenti sono gli interessi comuni. Il sostegno a Kiev prima di tutto, fino a quando sarà necessario, a 360 gradi, ribadisce Meloni. Gli ucraini difendono anche la nostra libertà e il principio che vince la forza del diritto, non il diritto della forza. Prima dell'incontro con Macron, la premier Meloni aveva presentato la candidatura di Roma per l'Expo 2030. Il Tribunale di Brescia ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione l'ex componente del CSEB, Pier Camillo Davigo, accusato di rivelazione del secreto d'ufficio per i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. L'ex magistrato, simbolo di Mani Pulite, non era in aula, secondo la procura ha fatto circolare quando era consigliere del CSM quei verbali coperti da segreto istruttorio ricevuti da storari, assolto, che lamentava un'inerzia da parte dei capi della procura milanese sulla veridicità delle dichiarazioni di Amara. I giudici gli hanno comunque riconosciuto le attenuanti generiche e concesso la sospensione condizionale della pena. Il suo legale ha già annunciato ricorso in appello. Hunter Biden, figlio del Presidente degli Stati Uniti, patteggerà con i procuratori federali evitando i processi per frotte fiscale e detenzione abusiva di armi. Pagherà una multa da 1 milione e 200 mila dollari. E Donald Trump, naturalmente, non ci sta al figlio di Biden. Solo una multa, ha detto, il sistema della giustizia è fallato. Un accordo preliminare con i procuratori federali per evitare di subire un processo. A chiudere è stato il figlio del Presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden, dichiarandosi colpevoli per due reati minori di evasione fiscale. L'importo è comunque piuttosto sostanzioso, 1 milione e 200 mila dollari. Il patteggiamento deve ancora essere approvato da un giudice federale. Parallelamente, sempre, Hunter ha chiesto una procedura di accordo preliminare per una vicenda legata al possesso di una pistola acquistata, mentendo sulla sua tossicodipendenza da crack. Donald Trump, che ha nella famiglia Biden il suo bersaglio preferito, ne ha immediatamente approfittato per attaccare il Presidente. Il Dipartimento di Giustizia, controllato da Joe Biden, ha appena cancellato centinaia di anni di responsabilità penale, dando al figlio una semplice multa stradale. Il nostro sistema è fallato. Il Presidente e la First Lady amano Hunter e lo sostengono nel percorso di ricostruzione della sua vita, scrive la Casa Bianca, che aggiunge, sul caso non ci saranno ulteriori commenti. In realtà, sono ben altre le accuse che Trump da sempre muove al figlio di Joe Biden e per interposta persona l'attuale Presidente, che chiama il corrotto. In particolare di avere fatto affari rossi quando era uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Burisma, società energetica ucraina. Accusa mai provata. Ed anche Donald Trump ha le sue gatte da pelare. C'è la data per l'apertura il 14 agosto del processo per le carte tenute a Maralago. La nuova linea di difesa, peraltro, non appare solidissima. Ero troppo impegnato, ha scritto l'ex Presidente, per restituirle. Per la cronaca parliamo della brutta vicenda di Pomigliano d'Arco, dove un clochard di 43 anni è stato preso a botte e ucciso nella notte tra domenica e lunedì, una morte che per certi versi era stata annunciata. Era successo già altre volte, ma nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Questo messaggio è scritto su uno dei biglietti lasciati sul luogo del delitto per ricordare Frederick, il clochard di 43 anni preso a botte e ucciso a Pomigliano d'Arco nella notte tra domenica e ieri. L'uomo era già stato picchiato in passato, qui lo sapevano tutti. Forse era stato preso di mira da un gruppo di bulli violenti. I carabinieri sono sulle tracce degli assassini. Si cercano due ragazzi, uno forse minorenne. I video al vaglio della procura di Nola documenterebbero una violenza senza limiti selvaggia è notte quando i due si avvicinano al clochard in via Principe di Piemonte, dove l'uomo è solito dormire. Forse c'è una breve discussione, poi partono le botte, calci e pugni violentissimi. Frederick cade a terra, gli aggressori infieriscono ancora, poi si dileguano. Il clochard riesce a rialzarsi, cammina per qualche metro ed entra in un cortile condominiale, dove crolla a terra agonizzante. Inutili soccorsi allertati da un residente, l'uomo morirà poco dopo all'ospedale di Nola. Nel video ci sarebbe un audio che potrebbe aiutare a capire se l'omicidio è accompagnato da insulti razzisti oppure se si è trattato di un puro e insensato gesto da bulli. In quel quartiere dove c'è un supermarket, Frederick era una presenza fissa e pacifica. Aiutava a mettere a posto i carrelli della spesa o a portare le buste in cambio di qualche moneta. I passanti gli offrivano da mangiare o da bere. Lui ringraziava sempre. Veniva dal Ghana. Il comune pagherà i funerali e ha proclamato il lutto cittadino. Un innocente ucciso da una società che sta fallendo, scrive l'anonimo autore di un biglietto lasciato sulla panchina di Frederick, trasformata in un memoriale. E restano meno di 40 ore di ossigeno all'interno del sottomarino disperso da ieri nell'oceano atlantico con cinque passeggeri a bordo intenzionati a visitare il relitto del Titanic. Tra loro ci sono un uomo d'affari pakistano e suo figlio, un miliardario americano e un grande esperto di Titanic è il numero uno dell'azienda proprietaria del mezzo Stockton Rush e il pilota di sommergibili, il francese Henri Nargeolet. Anche Parigi partecipa alle ricerche con una nave oceanografica e poco fa anche il Pentagono ha dispiegato mezzi aerei e navali per rintracciare il sommergibile. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento.